Ancora perché uno ha una pelle in un modo, ancora perché ha una religione in un modo, non guardiamo con sospetto, io credo che questa sia la cecità, un'enorme cecità che porta alla più grande malattia mentale che io non ho potuto studiare, perché non c'era nessuno dei testi su cui ho lavorato. Si chiama indifferenza, è la malattia che porta l'uomo a uccidere, a fare le guerre, a odiare.